Onorevole sta arrivando sta arrivando quel sole grandissimo, molto a posto la soccola un po minimo un po' che lo forza una Islamic una telefonata che le due che le due che le due che le due canali anche un ma chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? simone ciao simone gabriele 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 sei nuova due anni secca sono due anni che andiamo sono due anni che andiamo in classe insieme ma c'è poco non te l'hai visto buono pochino già già ma per me cosa fanno? lo cazzo si? caro su ma è un vero cazzo ehi facci tutto questo 25 36 ehi 24 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 25 24 25 27 27 28 28 28 29 29 30 29 25 29 30 30 30 31 32 32 32 32 33 33 34 33 34 35 36 36 37 37 37 38 38 il nome di chiamere che è il tuo sembra che è il tuo, è il tuo ma è il tuo vecchio no voglio mangiare è il tuo ehi, è il tuo c'è una marota vai vai il tuo bambino, non ti vieni il numero del tuo è il tuo vecchio ma hai mangi appa ma hai mangi appa ma non rumori ma cosa è così c'è c'è problema Si può dare. Si può dare. Ma è sì. La paccetta ti dà, mamma. Non mi fa sì. Se mi fai mettere un rapporto da sguardo, va. Mi fai con loco. 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 Porta insieme. Professore. Professore. Posso andare in mano? Ma. Ragazzi. Faccio dove? Eh, questo mi voi, cartotto. Ah. Questo è Giovanna. Ah. Giovanna. Ma adesso sto. Bleh! Bleh! Bleh!